Ieri pomeriggio a Ragusa, presso l'XVIA 515, zona contata selvaggio, si è svolta la cerimonia di intitolazione della strada al professor Giovanni Licitra, uomo politico e benefattore. Alla cerimonia, presente il sindaco Piccitto, c'erano i figli alla vedova, Maria Laterra Licitra, oltre ad autorità civile e militare a diversi cittadini. Era stata la consigliera comunale Lisa Marino a presentare, tempo addietro, formale richiesta di intitolazione di una strada della città all'illustre concittadino. La benedizione della strada, da parte di non Paolo Laterra, ha fatto seguito all'intervento del primo cittadino, che ha ricordato la figura di Licitra, apprezzato insegnante e per 12 anni consigliere comunale, oltre che assessore alla pubblica istituzione, e grazie al suo interessamento, ha rimarcato Piccitto, furono costruiti gli edifici scolastici via 4 Novembre e Paolo Ventre, oltre alla realizzazione di diverse scuole rurali.